Ma gli Slash Chords, c'entrano qualcosa con Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses? Beh, no, lo Slash Chord è un accordo che ha al basso una nota diversa dalla sua nota fondamentale. Ad esempio questo è un Sol, ma se io al basso metto un Fa diesis e lascio uguale al resto dell'accordo, ecco che ho un Sol slash Fa diesis. E se invece metto un Fa, quindi scendo ancora, ho un Sol slash Fa. Quindi questi accordi si scrivono con Accordo, Barretta, Nota di Basso. E cosa c'entra Slash allora? Beh, la Barretta in inglese si chiama Slash. Su lezionechitarra.it trovi tutte le mie lezioni e corsi completi, link in bio o in descrizione del video. Ciao!